il tiro incredibile si stampa sulla traversa ancora milani prova ad andare aspetta l'avversario oliveri si infila ancora molto bene con il fisico parte numero 8 può accalciare con il marcino centrale sottoporta non trova il gol oliveri ancora a lanciarsi sola verso pauletti il tiro c'è il gol 3 a 0 ancora lei a segnare tofani con il fisico si fa vedere gli sconti diceva il pallone sarà la controlla la tiene anche in campo diventa bene sul mancino l'opportunità ancora per il green grazie La scuola prosegue con Bisconti. Rivede riconquista, poi tira a forte ruota, trova il gol nel 4-0, un'altra legge per lei. Trova a giocare adesso con tutte le giovedici in campo, anche il portiere di Movimento Levergreen, 4-0 al risultato, prova a trovare il gol della bandiera perché manca davvero molto poco, un minuto forse più recupero, il pallone è buono per Rettofano, intanto la conclusione è spinta dal portiere. Ancora una volta al portiere. Infermabile l'Ieri. Tra basso da lontanissimo, trova anche lei il gol. Vince, dai l'Ieri, vicio 5-0 e vola in finale.